Buonasera, eccoci giunti al nuovo, il quinto appuntamento di queste conferenze che l'Accademia Senese degli Intronati ha organizzato per il settimo centenario della morte di Dante Alighieri. Come al solito siamo ospiti e ringraziamo l'Accademia dei Fisiocritici. Le conferenze, come già detto le altre volte, sono state organizzate anche grazie ai contributi ricevuti dal Ministero della Cultura e dalla Banca Centro Toscana Umbria e questa sera sarà il relatore, il direttore del bollettino senese di Storia Patria, Duccio Ballestraci, che ci parlerà appunto di Siena e i senesi come appaiono nella Divina Commedia. Dunque per l'introduzione all'argomento lascio la parola all'Architronato Barzanti. Io volevo più che giudurre ci vencerà il nostro ospite accademico intronato più che illustre a farlo. Io volevo ringraziare Duccio di aver accolto ovviamente il nostro invito e sottolineare come sia importante, ma forse non c'è nemmeno bisogno di farlo, leggere Dante sì anche da questa ottica come il resto è stato fatto. Giulio Ferrone addirittura ha fatto l'Italia di Dante, un viaggio in tutte le città, in tutti i luoghi che sono nominati più o meno estensamente nella Commedia. Dunque è una linea diciamo di lettura, una linea di interpretazione anche, molto tuttora vigente. Ma quello che mi devo sottolineare è che noi cercheremo sicuramente attraverso l'analisi di Duccio e anche altre occasioni non mancheranno di collegare questa linea ad una visione sempre complessiva del poema, perché il rischio di scadere, come del resto, la biografia abbiamo a disposizione di mostra, in una serie di aneddoti o di curiosità che leggano Dante quasi, vorrei dire, in chiave novellistica, come se si divertisse a raccontare storielle o storie o vicende che circolavano sui tempi e che ne avevano eccitato la fantasia, è stato molto 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 coltivato. Ovviamente in età positivistica in maniera notevole, ma anche dal punto di vista, come dire, civico patriottico, rintracciare il proprio sé, ecco, in un verso di Dante spesse volte ha esaltato questa o quella piccola comunità, magari detentrice di questo, quel monumento citato, oppure addirittura culla di questo, quel protagonista, a schiacciare. Io uso questo verbaccio, Dante, un po' in una chiave, ripeto, novellistica, aneddotica ed è un modo, per carità, rispettabile, si può leggere in tanti modi, Dante. Anzi, oggi leggevo un saggio e sta uscendo, francamente non cito l'autore, insomma, non mi è sembrato molto molto nuovo, eccetera, perché dice Dante Valletta in chiave realistica, cioè tirandogli fuori gli elementi di realtà e anche di conseguenza di trasmissione di realtà delle descrizioni degli eventi che sono nella commedia. Io sono di tutt'altro parere, per quello che vale il mio parere, perché è chiaro che la realtà della commedia è, come disse in un saggio decisivo Erich Hauebach, figurale, figura rispetto a quello che percepiamo. E le città anche esse sono come delle persone, dei personaggi, con i loro vizi, le loro virtù, che vanno lette in controluce lungo questo straordinario viaggio che non finisce di appassionarci. Ascolteremo la lezione di Lucio con molto interesse. Grazie. Grazie all'Accademia degli Intronati e grazie anche all'Accademia dei Fisiocritici per questa occasione che mi è stata data. Lo dico con profondo orgoglio, facendo parte in maniera proprio molto fiera sia dell'Accademia degli Intronati sia dell'Accademia dei Fisiocritici, quindi mi fa piacere di giocare in casa, in qualche modo, in entrambe le situazioni. Roberto Barzanti ha evocato un tipo di approccio, ha evocato giustamente, opportunamente, un tipo di approccio che caratterizzò, almeno fino a un secolo fa, ma forse anche dopo, ma fino a un secolo fa, l'approccio con la tematica della presenza di Siena in Dante. Dante conosce bene Siena, non c'è dubbio. È stato a Siena varie volte, non tutte quelle volte che pretendeva un acquarone, per esempio, che a sentir lui Dante avrebbe fatto un via vai continuo fra Siena e Firenze. Ma certamente le presenze a Siena sono probabili intorno al 1302, sono sicure, alcune sono attestate dal boccaccio che dice una tra le altre volte in Siena, nel famoso aneddoto di Dante Alighieri che non si accorge di un'armeggeria perché sta leggendo un libro del quale è molto preso. Non è indifferente il fatto che faccia parte del suo entourage, di quella che oggi chiameremo una rete di contatti intellettuali e la presenza di Cecco Angiolieri, su questo non c'è dubbio. E tutto questo avvalorò, almeno fino al famoso libro, al famoso volume miscellaneo Dante Siena appunto del 1921, caratterizzò quell'approccio ma che era già presente in acquarone nel 1889 che viene fuori appunto nel 1921 di una, cito testualmente dal testo di Rossi di Dante Siena nel 1921, manifesta simpatia di Dante per le cose e le persone senesi. Un accento che si ritrova, una convinzione che si ritrova nella lettera, nella parte introduttiva firmata il comitato di questo volume che si ritrova poi anche nella locuzione del sindaco, in base alla quale Dante conosce Siena meglio di ogni altra città, è vero che è la città più citata dopo Firenze nella Divina Commedia, meglio di ogni altra città per, cito fra virgolette, la vicinanza ai rapporti politici e personali, il risentimento patrio che a lui presentavano Siena come particolarmente degna di osservazione e di studio. Beh, è un approccio tanto ingenuo, vorrei dire, oggi lo definiremmo provinciale indiscutibilmente, quanto estremamente discutibile la simpatia di Dante per Siena, ma poi non è neanche una tematica che abbia un qualche, come dire, un qualche contenuto di interesse particolare, ma fece sì che, come citava giustamente Roberto Barzanti, ci si perdesse dietro un inseguimento di citazioni anche residuali che riguardano Siena e la Divina Commedia, un esempio per non stare nel generico, Ghino di Tacco, che è ricordato unicamente per aver ucciso Benincasa dalla Terina e che in questi studi, a Quarone, Dante e Siena e così via, poi invece occupa pagine, 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 per sapere chi era, che cosa faceva e in che misura dobbiamo prenderlo in considerazione. Dico subito che non è una citazione residuale quella di Pia dei Tolomei, o di Pia dei Tolomei, di quel che sarà ovviamente, Tolomei poi sappiamo che non lo era, ma io stasera non ne parlerò, non ne parlerò perché questa figura sarà poi al centro di una conferenza, di una discussione da parte di una studiosa che ha dedicato a questa figura una specifica ricerca e quindi ne parlerà con indiscutibile maggiore competenza di quanto non potrei fare io. Io vorrei invece parlare, toccare questo tema sotto un altro aspetto, l'aspetto dei senesi come soggetto collettivo e di alcune personalità senesi in funzione di quello che rappresentano all'interno del poema. Tenendo presente che quando ci muoviamo su questo piano, che è un piano sempre fortemente scivoloso, bisogna avere sempre chiaro che siamo di fronte a livelli di lettura e di interpretazione estremamente diversificati. C'è la realtà storica dei personaggi in quanto tali, c'è il modo in cui Dante li interpreta come costruttori di paradigmi da accettare o da rifiutare, un esempio molto semplice, provenzano. C'è il modo in cui Dante li contestualizza o ne inventa la narrazione all'interno di un tessuto poetico dell'opera, un esempio fra tutti quello di Sapia. E quindi non dimentichiamoci mai quando parliamo di questi personaggi, di queste storie, che siamo prima di tutto all'interno di un sistema funzionale all'impianto teorico-pedagogico della commedia, che si appoggia, sì, certo, su personaggi storici, situazioni storiche reali, stereotipi condivisi, ma che tuttavia poi mette capo a quest'altro aspetto che se non viene tenuto nella dovuta considerazione rischia di portarci a fraintendimenti, portarci fuori strada e davvero a rendere la Divina Commedia, come diceva giustamente Roberto Barzanti, una serie di storie di personaggi buffi o strani o inusuali o comunque in qualche modo interessanti, ma non più che questo. Mentre invece, logicamente, l'approccio deve essere del tutto diverso. Allora, cominciamo dal primo punto. I senesi come soggetto collettivo. I senesi come soggetto collettivo che va sotto la definizione chiara, a tutti nota, di gente vana. Siamo in presenza di un blasone popolare. Un blasone popolare che in questo caso Siena si attira addosso nella fattispecie esemplificato da due questioni, due problemi che travagliarono Siena nel 300, l'acquisizione di Talamone nel 1303 da parte della vazia del Monte Amiata. Un sogno che vide senesi impegnarsi in una lottizzazione del territorio di Talamone, dell'insediamento di Talamone. Un tentativo di fare di Talamone uno scalo commerciale di una qualche rilevanza. Il bello è che Firenze, Dante Alighieri Fiorentino prendeva in giro questa cosa, ma Firenze non disdegnò mai di avere Talamone nella costruzione geopolitica della sua influenza economica, almeno fino a quando non riuscì a mettere le mani su Pisa. Ma Talamone che interessò a Firenze, che interessò agli Aragonesi e così via. La Diana, lo sappiamo benissimo, oggetto di scherno, questi senesi vani che scavano sottoterra come talpe a cercare questo fiume sotterraneo per cercare di supplire al bisogno di acqua ineludibile in una città in crescita come era quella di Siene, che si appoggiavano in questo a metà strada fra la tradizione, si era sempre detto che c'era un fiume sotterraneo, e l'evidenza pratica, cioè un tentativo, a volte goffo, ma che andava perfettamente in linea con quello che era l'approccio dell'epoca in cui le ricerche della Diana vennero fatte. Però i senesi vani si ritrovano in varie parti del poema, non soltanto nella definizione appunto che ne dà Dante nella questione di Talamone e della Diana. Si trovano per esempio come sciocchi nella storia di Alberto Albero da Siena, che viene turlupinato da Griffolino d'Arezzo, il quale fa credere a Albero, chiamiamolo così come correntemente viene definito, che era cotale scioccaccio, dice Francesco Di Bartolomeo da Buti, un commentatore della Divina Commedia, gli fa credere di saper volare. Albero da Siena è l'accusatore di Griffolino d'Arezzo, e il commento appunto alla pena che viene inflitta a Griffolino d'Arezzo da parte del Vescovo, che è la pena di essere bruciato vivo, chi è questo Vescovo Aquarone propone che sia il Vescovo Buonfiglio, può darsi, è la prova provata della scioccaggine, della stupidità dei senesi, i quali, prima di rendersi conto che li stanno prendendo in giro, hanno bisogno di essere turlupinati in maniera vergognosa. Questo concetto dei senesi Bessi, sciocchi Bessi, il termine è Besso, viene recepito addirittura nella narrazione del Montauri, di quella cronaca che va sotto il nome di Paolo Tommaso Montauri, non è l'autore, lo sappiamo benissimo adesso, non importa, che la recepisce perché nella pagina della cronaca senese di Montaperti, del Montauri, i fiorentini si chiedono come hanno avuto tanto a dire questi sanesi besciolini, ovvero questi senesi stupidelli, sciocchini, di uscire in campo contro di noi, ed è un termine che viene appunto recepito in qualche modo inconsapevolmente denigratorio anche dallo stesso Montauri, che troviamo logicamente poi a man salva nelle fonti di altro genere e soprattutto nelle fonti fiorentine. Filippo Villani parla dei senesi che fanno Bessa Festa, una festa stupida, nel 1363 per la vittoria sulla compagnia del cappello al soldo di Firenze, e il termine Besso, Bessi, rientra poi in una tradizione letteraria che vede presente Boccaccio, Burchiello, Matteo Franco, Matteo Franco vive fra il 1448 e il 1494, e l'Aretino. Le storie sono in gran parte risapute nel Decameron, la settima giornata, terza novella, parla dei frate Rinaldo Senese, che viene beccato dal marito stupido mentre giace con la moglie, e il frate Furbacchione, allo stupido Senese, fa credere che sta incantando i vermi al bambino, quando il bescio santoccio udì questo, e così via, e così via. E così Matteo Franco, io sono a Siena qua, fra questi Bessi, e così il Burchiello, Sanesi, Pazzi e Cervelli, Balsani, qui siamo già in una situazione di transizione, alla quale alluderò fra pochino. Burchiello, che dice che non è Besso a Siena che il credesse, e ancora Besso, quando Andi alla città Sanese saluta per mia parte ciascun Besso, e così via. E così il Pulci, che racconta di un pappagallo che viene, in realtà è un picchio, e viene pagato a peso d'oro invece di un uccello del tutto normale. Il Pulci, o Zucca mia Sanese, il Sercambi, siamo a Lucca, un Sanese nomato Besso, alle prese con un macellaio lucchese per una partita di oche. E altrettanto Antonio Cammelli, detto il Pistoia, vive fra il 1440 e il 1502, che fa un elogio delle belle donne sanesi e dice «E' simili presenti questi regali, per loro disgrazia sono qua giù concessi in man di questi sanesi, porci, bessi, porci e stupidi». È interessante notare il modo in cui poi a Siena si cerca di curvare questa nomea di stupidi, questo blasone popolare di stupidità, trasformandolo in un più nobile, se vogliamo, blasone popolare, sì, ma di pazzia. Cosa che non è assolutamente originale, perché ogni altra città fa qualche cosa di questo genere. Ma chi volesse seguire questa trasformazione molto contorta, molto intorcinata, portata avanti in prima persona da Girolamo Gigli, 1660-1722, potrà seguirlo, questo tentativo. Nelle pagine farraginose, molto difficoltose, a volte al limite della leggibilità, ma importantissime e utilissime e di grande livello, di Schizzerotto Sberleffi di Campanile, che segue appunto questa trasformazione, facendo vedere come il Girolamo Gigli lega addirittura la tradizione di Montaperti, il blasone senesi non stupidi, ma pazzi, balsani. Quell'istabilità del cervello dei senesi, che viene raccontata anche da Benedetto Varchi. Siamo all'interno di tutta una serie di blasoni popolari che si ritrovano tranquillamente nella Divina Commedia. Gli aretini, definiti botoli ringhiosi, per esempio, oppure questo concetto di botoli, questa figura di botoli ringhiosi, questo blasone che si ritrova poi anche nel Sacchetti in una lettera a Rinaldo Gianfigliazzi, appunto, a riprova di questo. I pisani che sono volpi e lepri. Il lepri è interessante, perché il fatto che le lepre, la lepre è una lepre che scappa, una lepre è un animale di cui non ci si può fidare. Tra l'altro, una piccola annotazione, nel famoso rosone del pavimento della cattedrale di Siena, dove sono raffigurate tutta una serie di città, con i loro emblemi araldici, Pisa è raffigurata con una lepre, quindi raffigurata sulla base di un blasone popolare. Ma il blasone popolare dei pisani è qualcosa di addirittura peggiore rispetto alla lepre. La lepre è un animale che scappa, è un animale che fugge, un animale vigliacco, poi tutto sommato. Ma i pisani sono soprattutto volpi e questo si ritrova nella Divina Commedia. L'arno trova le volpi, sì, piene di froda. E attenzione, perché le volpi in realtà, la volpe in realtà, è un blasone popolare che connette agli eretici. Le volpi sono gli eretici e quindi nel caso di Pisa siamo già su un livello più alto da questo punto di vista. E questo blasone lo ritroveremo in Antonio Pucci, in Sacchetti, in Ventura Monge e così via. Così come altri blasoni si ritrovano, i fiorentini ciechi, sia per l'orgoglio, ma sia anche perché sono degli ingenui. Basta pensare al modo in cui il Villani rappresenta la battaglia di Montaperti. I fiorentini l'hanno persa perché sono gli ingenui e perché invece c'era un fiorentino furbacchione, che era farinata degli uberti, che li ha turlupinati in ogni modo e li ha messi nel sacco in ogni modo. Quindi un mascalzoncello, però insomma un fiorentino intelligente rispetto ad altri fiorentini meno intelligenti. I bolognesi ruffiani e quanto di altro. Diciamo che siamo all'interno di un dispositivo complessivo di delegittimazione, del quale fa parte il blasone, fa parte l'invettiva e fa parte anche lo sberleffo. L'invettiva basta pensare a casentinesi, anche se forse è riferito ai conti guidi di Porciano, brutti porci più degni di galle che d'altro cibo fatto in uman uso. L'invettiva in questo caso, a Pisa, ai Pisa, Vituperio delle Genti, si muovono la capraia e la gorgona che blocchino la foce e che vaffoghino tutti. Pistoia, ai Pistoia, Pistoia, che non stanzi di incenerirti, sì che più non duri. E qui siamo all'invettiva. Poi c'è il blasone invece in questo caso, poi che il malfar lo seme tuo avanza. Lo seme tuo è il sangue di Catellina per capirsi e quindi quello che fa dei pistoiesi gente prona alla faida, al sanguinario e così via. E ce n'è anche per i fiolentini, miserrima, fesulanorum, propago, bestie fiesolane, avari, invidiosi, superbi, eccetera, 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 che poi chiappa tutti i toscani quando alla fine Dante Alighieri, non nella Divina Commedia in questo caso, ma nel De Vulgari Eloquenzia, scrive Omnes Tusci in suo turpiloquio sunt obtusi. Tutta la parlata toscana, la parlata di Tusci è orripilante, non è curiale ma è municipale. Sì, è vero che poi ci sono alcune, poche eccezioni, ma poche. All'interno di questo contesto di gente vana possiamo forse, 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 inserire anche il tema della brigata spendereccia. Chi racconta a Dante della brigata spendereccia è Capocchio, falsario, arguto, estroso, quello che si dipinge la passione nelle unghie, poi quando Dante gli va a chiedere che cos'è, lui se le lecca subito e la fa sparire. Condannato a rogo come alchimista, anche lui nell'estate del 1293, bruciato a Siena, non è la stessa storia di albero, per capirsi. La brigata spendereccia, così la denomina Jacopo della Lana, in cui era presente Stricca, che fece sfolgorate spese e appellavasi la sua brigata spendereccia, composta da 12 giovani che dilapidano nel giro di meno di due anni 200.000 fiorini. Ora all'ingrosso, più o meno, 200.000 fiorini, all'ingrosso, in maniera soltanto indicativa, corrispondono più o meno a 30 milioni di euro attuali. E qui siamo all'interno, però, di una tradizione che non si sa quanto legata alla realtà. Tutti i commentatori ammettono di averne solo sentito dire di questa brigata. E qui siamo in presenza di una memoria, una memoria favolizzata, orale, che diventa poi narrazione letteraria. Ce n'è un cenno, forse, in cene della chitarra di questa brigata, ma così quanto Dante Alighieri era stato estremamente vago in fin dei conti e quanto invece sono più chiari i suoi commentatori, ed è più chiaro e porta fuori strada, Sicismondo Tizio, il quale dice che partecipa come star, diciamo così, alla brigata spendereccia, folgore da San Gimignano, per il sonetto introduttivo al ciclo dei mesi. Ecco, no, ci avevano anche creduto illustri personaggi a questa contiguità di folgore da San Gimignano con la brigata senese. No, non torna assolutamente niente, questo lo diceva già il Rossi. Ubaldo Morandi, in un suo piccolo ma importante lavoro del 1991, lo mette in grande chiarezza. Ci voleva una grande ingenuità a pensare che quando si parla di brigata, è perché nella brigata di Folgore e nella brigata spendereccia compare un personaggio che risponde al nome di Niccolò, che sia la stessa brigata. Insomma, ci vuole veramente molta ingenuità. Brigate ce ne erano quante si voleva e Niccolò non è un nome poi così stravagante. La brigata di Folgore, tra l'altro, è stata ben identificata da Ubaldo Morandi e non c'entra assolutamente con quella senese. La quale avrebbe avuto fra i suoi componenti Stricca di Giovanni Salimbeni, Podestà Bologna nel 1276 e 86, o forse uno Stricca Tolomei, frate Gaudente, un Niccolò dei Salimbeni, fratello di Stricca, che però avrebbe potuto anche essere, sto citando Sapegno in questo, avrebbe potuto anche essere un Buonsignori, Caccia d'Asciano, che era trovato dagli Scialenghi, l'abbagliato Bartolomeo dei Folcacchieri, capitano della taglia di Toscana, e la loro caratteristica è certamente quella di aver dilapidato assolutamente tutto. Benvenuto da Imola, è quello che costruisce, come dire, la narrazione più completa di questa brigata. Avevano una palazzina, quella che conosciamo noi ancora in via Garibaldi, o perlomeno attribuita a quella, la cassa comune, il divieto di fare spese in proprio, ogni mese davano due pranzi e due cene sontuose, accoglievano i lustri personaggi, gli oggetti che usavano per i conviti, ovvero sia piatti e coltelli e quanto di altro, in argento venivano poi buttati dalla finestra, e questo è un topos abbastanza ricorrente, così come è un topos abbastanza ricorrente, la ferratura dei cavalli fatta con l'argento e non con il metallo comune. Questo è Sicismondo Tizio, che riprendendo dai commentatori di Dante, come dire, monta la panna ulteriormente. Ne fa parte questo Nicolò Salimbenio Buonsignori, che fu il primo che trovò, che sto citando Jacopo della Lana, fu il primo che trovò mettere in fagiani e pernici arrosto i garofani, e il commento di Benvenuto da Imola però è diverso, dice, ma che c'è di strano nel mettere i chiodi di garofano nell'arrosto? La cosa importante è diversa, non è che è una cosa nuova mettere i chiodi di garofano, ma lui, dice Jacopo, beh, dice Benvenuto da Imola, usava proprio i chiodi di garofano per fare la brace, e quindi ce ne voleva un finimondo, e questa era veramente una cosa incredibile. E poi, via via, questi altri personaggi, Cacciadaciano Cacciaconti, un lano, Ercolano Maconi, che il Boccaccio attribuisce come membro della Brigata Spendereccia, dissipatore del suo avere, scrive Francesco Dabuti, che sarebbe morto nella battaglia di Pieve a Toppo, e via via, il tizio che ci mette poi ulteriori confusioni, perché presuppone un anello di congiunzione fra la Brigata Spendereccia e i frati Gaudenti. Ecco, attenzione, tutta questa storia, che davvero rischia di sembrare una storiellina di sciocchi senesi, pieni di soldi, che sono talmente stupidi da dilapidare in 448 una fortuna, e no, attenzione, va ricollocata all'interno dell'alveo di una poesia morale satirica contro chi è ricco e perde il controllo, in qualche caso, fino a ridursi in povertà. La Brigata si riduce in una povertà schernita. Attenzione, perché c'è un'interlocuzione che può essere interessante, ed è il sonetto di Cecco Angiolieri, quando Neri Picciolino tornò di Francia, era sì caldo dei tanti fiorini che gli uomini gli parevano topolini, e di ciascun si faceva beffe e ciancia. Quindi un arrogante, un arrogante che si aliena alle simpatie di tutti, è che Angiolieri postula, possa poi alla fine impoverire per questa mancanza di contatti, tanto che finisce il sonetto da qui a passati otto mesi, seppure avrà del pan, sarà bonino. In che contesto siamo? Siamo all'interno di un contesto pedagogico-morale, siamo all'interno di un contesto di riprovazione della Toscana del boom. Guardate che questo tema va, questi temi, questi personaggi, vanno letti, vanno interpretati, avendo dietro in filigrana il canto di Cacciaguida, il canto della Firenze, che nelle antiche mura era una città onesta, una città sobria, e che invece adesso è la capitale, ma come sono capitali le altre città, di una neocafoneria, dei nuovi arricchiti che dimostrano in questo modo di essere tanto stupidi quanto persone prive di ogni statura morale e di ogni dirittura civica e di ogni dirittura etica. Siamo allora con la brigata all'interno di una significatività una significatività non tanto in quanto senesi, ma in quanto scialacquatori, che a mio parere mi sembra che sia poi la cifra maggiore e più importante. Questo per quello che riguarda i senesi come soggetto collettivo. Adesso vorrei entrare all'interno invece dell'analisi di alcuni, non tutti, alcuni personaggi invece storici analizzati in quanto tali, e lo farò analizzando una vera e propria saga familiare senese. Quella di Provenzano, Sapia, che poi convoca di Sponda per un certo verso Farinata degli Uberti, vedremo perché, ma sicuramente Pier Pettinaio. Tre personaggi in una interlocuzione funzionale. E cominciamo con il primo. Provenzano è fra i superbi insieme a Umberto Aldobrandeschi, a Oderisi da Gubbio, per capirsi. Una figura che ha una sua rilevanza storica notevolissima per Siena. Nasce intorno al 1220, morirà alla battaglia di Colle, il 17 giugno 1269. Nel 1247, i primi documenti sulla sua vita pubblica, è due volte provveditore di Biccherna, almeno quattro volte nella magistratura dei 24, è membro di commissioni importanti per le imposizioni fiscali, approvvigionamento annonario, legislazione penale e quanto altro. È nel decennio fra il 50 e il 60, a capo di una serie, il fulcro e il nodo di una serie di ambascerie, Volterra 1250, Perugia, gli Ardengheschi, gli Aldobrandeschi nel 1251. Un'ambasceria che era inedita fino a quando non l'ha pubblicata Sergio Raveggi, a Manfredi, Pro Factis Comunis Secretis. Siamo nel 1257, il tutto per creare una rete antifiorentina in previsione, appunto, in revisione di un trattato di pace con Firenze accettato o torto collo in precedenza, ma in possibile previsione, logicamente non è che la prevedesse, ma insomma non era difficile ipotizzare che si sarebbe arrivati, a un nuovo scontro, una rimessa in discussione di questo accordo con Firenze e ad uno scontro con la città. Missioni diplomatiche, attenzione, questo è un punto importante, le missioni diplomatiche ai margini di discrezionalità degli ambasciatori sono a norma di statuti limitatissimi, quindi il fatto che sia, che Provenzano Salvani sia al centro di queste ambascerie che non ci consente più di tanto, non ci autorizza più di tanto a pensare che stia facendo una politica improprio nei confronti di questi interlocutori. Certo, deve aver fatto dei buoni lavori perché quando ritorna insieme a Jacopo Pagliaresi dall'ambasceria a Manfredi nel 1262, l'esito deve essere stato talmente favorevole che il Comune delibera di fare dei doni aggiuntivi ai due ambasciatori oltre al gettone che era stato concordato. Certo, Provenzano Salvani è il punto di riferimento diciamo così della politica filosveva e anche un po' il garante nei confronti di Manfredi e per Manfredi nei confronti di Siena. Nel 1249 richiede che il Podestà giuri di adempiere agli ordini dell'imperatore nel 1259 sostiene che spetta a Manfredi non solo la ratifica della nomina del capitano del popolo e del Podestà ma proprio la loro designazione in quanto tale. Nel 1262 è lui che garantisce la fedeltà e l'obbedienza a Manfredi ma nel 1262 è già un momento particolare perché Siena ha vinto la guerra ma sta perdendo la pace e Manfredi sta deludendo Siena Siena si era aspettata Mari e Monti da Manfredi e Manfredi invece sta tenendo un profilo molto cauto perché non gli importa più di troppo di favorire Siena. Provenzano è una figura di garanzia nei confronti di Manfredi ma anche nei confronti dei fuoriusciti chibellini che vengono a Siena sono fuoriusciti sono chibellini ma sono pur sempre fiorentini è lui che garantisce sulla loro presenza è lui che svolge le funzioni di podestà a Montelaterone nel 1256 a Montepulciano nel 1261 e in questa occasione consegue l'investitura cavalleresca perché si parla di lui come dominus ed eccoci qua Provenzano esercitò allora una signoria fermi qui occorre fare un piccolo break un time un time out e chiederci di che cosa parliamo quando parliamo di signoria vi dico subito che in questa parentesi seguo la convincentissima lezione di Andrea Zorzi anche altri ne hanno parlato ma la sua lezione mi convince particolarmente noi siamo abituati a considerare il tema o rischiamo di considerare il termine signoria sulla base di residui e cascami di una narrazione che si alimenta di un clima risorgimentale e sismondiano che si può in qualche modo molto grezzamente e me ne scuso ridurre a delle contrapposizioni comuni e libertà verso signoria ovvero tirannide il tutto peraltro alimentato in maniera improvvida dall'emmi e locuzioni creatori di un ideal tipo da questo punto di vista e quando ci addentriamo all'interno dei linguaggi della politica i lemmi e le locuzioni che creano ideal tipo e che hanno fatto poi una concrezione pluridecennale o se non secolare sono estremamente estremamente pericolosi e così questi lemmi e queste locuzioni sono quelli che rispondono al concetto di libertà fiorentina democrazia fiorentina buon governo senese e i casi di signorie in contesto comunale sono stati frequentemente esorcizzati e depotenziati quasi come parentesi indotte da emergenze militari e politiche che comunque non hanno intaccato la natura del comune già su questo tema mise le mani Sestanne nel 1961 parlando di caratteri di signoria parlando di Siena sto parlando di Siena di caratteri di signoria adombrata dall'appoggio del popolo per il divrandino Cacciaconti nel 1244 e di signoria appena velata di Provenzano signoria anche se temperata anche se velata c'è qualche cosa di valido come vedremo in questa concezione pionieristica rispetto agli studi sui lemmi della politica e linguaggi della politica attuali ora come ora la storiografia attuale non mette più in contrapposizione comune e forme di leadership personale perché sappiamo perfettamente che le forme di leadership personale non sono né estrane né alternative al modello comunale ma sono forme di sperimentazione di modelli di sovranità che interagiscono con il potere di alcuni gruppi cittadini non dimentichiamoci mai che quando si parla di comune si sta parlando di un ologramma di un grappolo di espressioni di interessi corporativi in cerca di un bilanciamento spesso più desiderato che realizzato nel concetto di bonum comune non esiste una percezione del potere personale del tiranno quale noi oggi avvertiamo con queste terminologie si è tiranni se si persegue il bene privato allora si si è tiranni non lo si è se si esercita una leadership un potere anche forte anche bello 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 marcato ma si garantisce il bonum comune signoria è allora un concetto da incastonare in uno spazio politico cittadino composito in cui agiscono e interagiscono vari nuclei di potere all'interno di esperimenti sempre reversibili vari nuclei di potere che sono vescovi comune popolo associazioni di mestiere societate svarie mercanzie e e quanto voglia non dimentichiamoci mai che il normotipo politico avvertito nell'epoca alla quale ci stiamo riferendo è la monarchia è questa la normalità della costruzione istituzionale le città comunali italiane che non hanno un re sono delle anomalie da questo punto di vista e allora gli elementi di costruzione di leadership personale all'interno delle città non sono viste assolutamente come cose stravaganti straordinarie o attentati a chissà quale libertà comune d'altra parte il sistema dell'esclusione il foruscitismo chi non è d'accordo se ne va che in qualche momento fino a un certo punto è negoziabile io pago e rientro poi da un certo punto non è più negoziabile e Dante ne fa le spese di questo non più negoziabilità dell'esclusione è quello che sostanzialmente contribuisce a costruire un meccanismo di annullamento dell'opposizione interna di monopolio del gruppo dirigente all'interno della città e quindi quasi inevitabilmente di una nascita di leadership di personalità all'interno di questo monopolio che non ha una interlocuzione e che non conosce una dialettica allora quella di Provenzano è una signoria o no la storiografia più recente è molto cauta su questo già Paolo Cammarosano Renato Lugarini nessuno dei due utilizza nelle sue considerazioni su Provenzano il termine signoria ma il quadro più lucido e rigoroso è quello tracciato da Sergio Raveggi alcuni anni fa ancorato alle fonti esente da interpretazioni impressionistiche che analizza appunto l'articolazione di una leadership che è tale effettivamente quando nel Costituto del 1262 si parla della restituzione dei beni sottratti ai legittimi proprietari dice Raveggi c'è una clamorosa aggiunta ad personam perché si scrive nero su bianco che Radicondoli Belforte e Monteguidi che sono signorie di Provenzano resteranno in perpetuo garantite a Provenzano e ai suoi discendenti Raveggi conta attraverso le fonti d'archivio nel periodo 1249 1267 25 interventi di Provenzano all'interno dei consigli non è che siano un'esagerazione è anche vero questo sì che Provenzano non di rado si riserva all'ultima parola interviene per ultimo e questo è un qualche cosa da tenere presente indubbiamente la leadership e l'importanza di Provenzano è sottolineata dal suo ruolo proprio anche di mediatore come abbiamo visto fino a questo a questo momento ma anche di mediatore non soltanto nei confronti degli amici ma anche nei confronti dei nemici nel 1267 Provenzano partecipa in prima persona alla trattativa poi naufragata per tutta una serie di ragioni generali con Urbano IV per la riammissione dei Guelfi di quei Guelfi che sono la fase aurorale della costruzione di parte Guelfa che poi darà vita al governo Guelfo e di fronte a un Urbano IV intransicente c'è un Provenzano che cerca di mediare poi la trattativa va a monte sia per l'intransigenza di Urbano IV sia perché intanto nel frattempo si è mosso Corradino e gli Bellini sperano che le cose si cambino in questo senso però certo non c'è dubbio che c'è un fortissimo protagonismo di Provenzano da questo punto di vista però ecco è una leadership in qualche modo sotto tutela perché Provenzano fa interventi nei consigli allo stesso pari e allo stesso tenore degli altri su questo non c'è assolutamente assolutamente dubbio per le cose che deve decidere passa attraverso le forme istituzionali e attraverso gli strumenti istituzionali gli uffici istituzionali non è che li scavalca e da questo punto di vista è interessante quel che succede nel 1263 quando da Arezzo chiedono a Provenzano di accettare la podesteria di Arezzo Provenzano accetta e i consigli cittadini dicono no no non lo puoi fare non puoi accettare un'offerta ad personam perché queste cose sono di competenza del Comune e tutt'al più di Manfredi nessuna iniziativa personale poi per carità viene edulcorata nel modo in un modo abbastanza goffo se vogliamo perché a Provenzano dicono no 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 tu non puoi andare a Arezzo ci servi qui ci mancherebbe importante la tua presenza qui sfrondata da questo aspetto chiaramente di facciata è un bello stop a una iniziativa personale di Provenzano che infatti non accetterà la podesteria di Arezzo è comunque altrettanto vero che nel 1268 il consiglio concede l'aiuto a Provenzano quando gli si sono ribellati alcuni castelli però anche in questo caso attenzione in seguito a un regolare dibattito all'interno degli organi competenti il comune metterà a disposizione i soldati per Provenzano per riconquistare i castelli ma dopo una regolare discussione quindi siamo all'interno di una complessa architettura di un potere personale che non esclude bilanciamenti e che ricerca legittimazioni istituzionali non è un caso che nella tensione politica tra Provenzano e Ruggeri Apuliesi non si faccia nessun riferimento alla signoria c'è un forte protagonismo di Provenzano Salvani non c'è dubbio ma la tensione ha tutto l'aspetto l'ha messo in evidenza Gabriella Piccini in un suo studio ha tutto l'aspetto di un dibattito fra due anime del ghibellinismo e non fra un signore ghibellino e un antagonista un antagonista Guelfo da questo punto di vista la signoria di Provenzano è calcata è sottolineata molto più dal Villani che non da Provenzano la signoria il Villani dice guidava tutta la città e tutta parte ghibellina di Toscana faceva capo di lui e era molto presuntuoso di sua volontà e lo presenta come negromante la famosa storia del diavolo che si porta dietro con tutta una serie di altri elementi delegittimanti della figura di Provenzano un signore che dice il Villani che spiace ad alcuni dei più possenti di Siena e sì certo ma non c'è dubbio che spiaccia più al Villani che a Dante gli anni in cui scrive il Villani sono quelli in cui a Siena si dipinge il buon governo e come sappiamo benissimo il buon governo presenta la prima faccia che non è quella del buon governo ma il biglietto di presentazione è il mal governo ovvero sia se non ci siamo noi guardate che cosa succede c'è il tiranno quello cattivo quello che non pensa al bonum comune ma il tiranno che pensa soltanto a se stesso e quindi la lettura del Villani è in qualche modo da leggere scusate il bisticcio in concomitanza appunto con il messaggio con il significante che ha il buon governo il buon governo di Siena che cosa rappresenta per Dante Provenzano Salvani la caducità della fama politica è stato detto oggi a Siena appena sempispiglia sì diamine non c'è dubbio anche se poi subito dopo Dante fa seguire una rampogna a Firenze rabbia fiorentina che è superba fu a quel tempo siccome ora è putta e non c'è dubbio una metafora della caducità politica su questo non c'è l'ombra di dubbio ma anche altrettanto anche altrettanto un anche altrettanto un tentativo di non un tentativo una presa d'atto della obliterazione che della memoria di Provenzano è stato fatto intanto da una Siena diventata guelfa da Ghibellina che era Provenzano non compare praticamente o quasi nella narrazione di Montaperti che sono narrazioni come sappiamo tutte quante tutte quante di epoca di epoca guelfa e poi soprattutto serve la figura di Provenzano a quella chiusa parlando della questua quando dice or parlo oscuro ma non passerà troppo tempo che anche Dante imparerà cosa vuol dire quasi mendicare e dover sopportare l'umiliazione è interessante notare a questo punto che la figura di Provenzano non può prescindere da una lettura in parallelo con quella di Farinata Manente e degli Uberti 1212 circa 1264 che subirà un processo per eresia un processo farsa nel 1283 che viene delegittimato anche anche in questo caso appunto per il fatto di essere eretico Provenzano e Negromante in qualche modo la delegittimazione del Villani fa pandan con la delegittimazione di Farinata degli Uberti Dante non può far sconto a Farinata però sottolinea ugualmente che Farinata è stato quello che ha difeso a viso aperto Firenze che se Firenze esiste ancora è dovuto a Farinata c'è un filo rosso lo sappiamo perfettamente che lega Dante Alighieri con Andrea del Castagno e la raffigurazione di Farinata fra gli illustri di Firenze e tuttavia certo a Dante questo non può bastare per salvare Farinata e la figura di Provenzano ci porta alla figura di Sapia Sapia una figura che è stata sulla quale si è creata una concrezione di superfetazioni fantasiose uccisa a colle da un sicario senese presa prigioniera e morta di fame e così via che rinnega il ghibellinismo per diventare guelfa e che come diceva il Frittelli resta ghibellina ma odia Provenzano perché è un traditore traditore come sappiamo Provenzano fu definito traditore dalle fonti guelfe con una narrazione che non sta in piedi neanche a tenerla su con le stampelle e Sapia in realtà è lo diceva già Giorgio Varanini va letta in una interpretazione psicologica è fra gli invidiosi e quindi il suo è un istinto connaturato che la caratterizza in funzione della narrazione poetica ed è più o meno il tema che riprende ultimamente Marco Sant'Agata quando dice Sapia è la veicolazione di un messaggio politico ma è soprattutto un ritratto psicologico di una donna affetta da una sorta di impulso coattivo da una sostanziale irrimediabile assenza di carità che fa pandanco la superbia di Provenzano e con l'invidia ancora una volta appunto siamo all'interno di un tema funzionale alla Divina Commedia e in questo caso siamo alla disgregazione dei valori dei costumi della vita politica e nella stessa famiglia non è un caso che siamo sullo stesso livello delle storie di Alessandro degli Alberti e Napoleone e dei figli di Alberto degli Alberti che si uccidono fra sé di Alberto figlio di Alessandro che uccide Orso figlio di Napoleone e così via la disgregazione dei nuclei familiari quello di Vanni Focaccia dei cancellieri di Sassolo Mascheroni e così via Sapia e Provenzano sono come chiaramente mette in evidenza in maniera convincente Marco Sant'Agata una metafora che serve al poeta tra l'altro la storia di Sapia noi di Sapia non sappiamo assolutamente niente se non un brind qualche piccola cosa che non ha niente a che vedere con tutta questa vicenda tra l'altro ci rappresenta come una persona assolutamente normale che peraltro dona un ospedale al Comune di Siene e quanto di altro e siamo all'interno di quel contesto che Auerbach citato precedentemente da Roberto Barzanti mette chiaramente in evidenza cioè figure storiche cadute nell'oblio personaggi sconosciuti o dei quali nel migliore dei casi avremmo scovato uno o due documenti dice Auerbach ma da questi versi essa è divenuta un carattere poetico come una grande figura mitica e storica non dimentichiamoci mai la finalizzazione di queste figure che è l'impianto poetico morale che Dante Alighieri dà al suo lavoro e concludo con l'altro personaggio senese chiamato in causa in questa interlocuzione di storie da Provenza e in questo caso invece da Sapia Pier Pettinaio Pier Pettinaio che è quello che garantisce a Sapia che un giorno andrà in paradiso esattamente come l'umiliarsi quell'umiliarsi che poi anche Dante Alighieri dovrà conoscere è quello che garantisce che purga tutto l'operato di Provenzano e gli garantisce il paradiso un fatto quello della questo sulla cui veridicità non c'è da metterci la mano sul fuoco per niente perché potrebbe essere tranquillamente una storia popolare reiscritta da Dante o completamente inventata quindi attenzione Pier Pettinaio Pier Pettinaio che dice Dante Alighieri è quello che salva l'anima con le sue preghiere a Sapia dei Saracini beh anche in questo caso chiaramente è un'inserzione che è frutto che è frutto della fantasia di Dante ma Pier Pettinaio è un personaggio esistito lo troviamo troviamo notizie in Ubertino da Casale è un personaggio che frequenta i circoli devoti e spiritualistici di Firenze e di Santa Croce come è stato messo in evidenza con chiarezza da Raul Manselli ed è un personaggio che da questo punto di vista a Siena ha una sua funzione molto importante il santo del silenzio raffigurato con una mano davanti alla bocca perché silenzio perché è un personaggio che si è estragnato dalla vita politica e quindi nega quella che è la funzione prima della vita politica il mezzo primo scusatemi della vita politica che è la parola il prendere la parola nei consessi e il dire la propria Pier Pettinaio che nasce a Campi in Chianti non si sa quando muore a Siena il 5 dicembre del 1289 avrà un sepolcro molto molto nobile dal 1328 sarà fatto oggetto di cerimonie solenni annuale è una iconografia appunto di un rifiuto qui sto citando l'interpretazione di Michele Pellegrini di questa figura un personaggio che viene inteso come simbolo dell'uomo che si estranea dai conflitti tra le parti e il messaggio è un messaggio ambivalente perché estranearsi dai conflitti e dalle parti vuol dire estranearsi dai conflitti all'interno delle lacerazioni interne all'ordine francescano e dall'altra parte invece un messaggio esterno è la figura proposta dell'umile e che quindi può fare presa nel ceto più basso che rifiuta di entrare nelle diatribe politiche nello scontro politico nella faziosità politica e che nel nome della ricerca della santità e della perfezione rinuncia appunto a questo in funzione proprio di una ricerca di Dio e Pier Pettinaio il culto di Pier Pettinaio assiene chiaramente e viene veicolato in questo senso e lo capiamo perfettamente siamo tra l'altro in un'epoca negli anni 20 del 300 in cui a Siena il governo Guelfo dei Nove deve trovare dei difficili bilanciamenti anche al suo interno sono anni tutt'altro che facili ma a Firenze perché? a Firenze e qui mi rifaccio invece ritorno all'interpretazione di Manselli Dante privilegia l'umile silenzioso Pier Pettinaio rispetto all'esuberante inquieto aggressivo Ubertino da Casale che Dante indica proprio come esempio da evitare nel Paradiso dodicesimo canto Buonaventura da Bagno Reggio che pronuncia l'elogio di San Domenico e fa rimproveri a certi francescani dice che ben dico chi cercasse a foglio a foglio nostro volume ancor troveria carta uleggerebbe io mi son quel che io soglio ma non fia da Casal né da Quasparta la onde vengono tali alla scrittura cun ovvero sia Ubertino da Casale la fugge e l'altro la coarta a Matteo di Acqua Sparta e allora è una chiara indicazione di una maggior simpatia di Dante per la corrente degli spirituali una corrente appunto che non è quella di Ubertino da Casale né di Matteo d'Acqua Sparta ma di un altro tipo fatta di mitezza che crea un contrapasso salvifico al furore partigiano di Sapia siamo quindi ancora una volta l'ennesima di fronte a una figura storica di un personaggio funzionale alla narrazione del poeta parallela quantomeno alla vicenda storica in sé e per sé vi ringrazio della vostra attenzione siamo noi che ringraziamo te per questo lungo escurso sui principali personaggi senesi presenti nella commedia e vorrei sapere se ci sono arrivate delle domande da niente nessuna domanda come è successo le altre volte purtroppo è sempre molto consolatorio quando non arriva nessuna domanda è come quando hanno finito di interrogarti quando eravamo al liceo quando il professor dice vai a posto andata bene o andata male ma almeno non ci sono ulteriori domande è che molto spesso poi queste conversazioni vengono seguite diciamo indifferita in altri momenti riprendendola appunto dalla pagina facebook o da youtube quindi con comodità diciamo rispetto alla presenza o al seguire nel momento specifico in cui queste si si svolgono e quindi vorrei sentire magari ancora se Roberto ha qualche cosa da dire è altro che qualcosa ma devo prima di tutto come penso coloro che hanno ascoltato che ascolteranno compiacermi molto del quadro che ci ha tracciato Duccio che esette da qualsiasi amplificazione retorica ovviamente ma anche come dire idealizzante di questo rapporto con personaggi figure vicende semessi io volevo sapere da Duccio ma la in parte almeno anzi in gran parte ci ha detto le fonti di Dante dal punto di vista ad esempio della vicenda della Pia che ormai si chiama Pia da Siena per motivi che saranno i carichi in futuro insomma che sappiamo oppure della stessa sapia che tutto sommato devono essere fondamentalmente forse orali ecco la fonte da cui trae questi elementi che poi rimpagina nel poema le fonti di Dante sono fonti prevalentemente orali di conoscenza diretta di situazioni in base anche alle sue esperienze l'ambasceria di cui aveva fatto parte nel 1301 e così via o ci sono elementi che invece mi pare traspaiono anch'essi abbastanza forti ma sono tutti posteriori insomma per cui elementi di una cultura anche che circolava depositata in scritture o comunque in ambienti alti che lui ha presentato ma credo che l'interpretazione sia esattamente questa le fonti su Pia non esistono perché non sappiamo neanche bene chi sia questa donna ma di questo ne parlerà poi Roberta Mucciarelli e non centro io ma certamente non abbiamo nessuna fonte sulla Pia Dantesca non sappiamo neanche chi sia Sapia le fonti storiche su Sapia esistono ma sono di tutt'altro genere cioè ce la presentano come una una donna appartenente a una famiglia molto importante sì poi si è cercato anche in qualche modo di storicizzare l'eventuale rapporto di invidia e di odio nei confronti di Provenzano e qualcuno ha detto sì evidentemente siamo all'interno di una spaccatura di una faida all'interno di una stessa famiglia non c'è bisogno di pensare che che Sapia si è diventata Guelfa assolutamente no ma c'è in qualche modo una spaccatura fra appunto chi è superbo e quindi schiaccia gli altri e chi è invidioso perché teme di perdere il suo status quando gli altri si innalzano ma questo è più uno stereotipo in realtà che non una realtà e sì se vogliamo possiamo anche pensare che ci sia un'invidia da parte di una parte della famiglia dei Salvani nei confronti del potere acquisito da Provenzano ma è tutto molto postulabile e secondo me anche tutto molto poco interessante perché quello che a mio parere ha una vigenza importante è quello di ciò che Dante ha voluto dire con questo personaggio di Sapia che è nella narrazione della Divina Commedia ampiamente secondo inventato cioè di Sapia abbiamo dei documenti ma sono documenti di tutt'altro genere tra l'altro appunto Sapia che dona l'ospedale di Castiglione di Baldi a Siena che fa delle cose assolutamente assolutamente normali cose che fanno che fanno quelle del societo assolutamente normali quindi tutta questa storia questa questa invidia e questa è in qualche modo appunto funzionale a un racconto che non sappiamo quanto poi di storico possa avere e che poi appunto ha la stessa valenza dell'inserimento di Pier Pettinaio cioè un inserimento funzionale a certi messaggi che Dante vuole dare che poi logicamente sono quelli il frutto della sua elaborazione e la stessa storia della Brigata Spendereccia la Brigata Spendereccia Dante è molto generico in questo senso e poi i commentatori ci mettono ci mettono del suo ma i commentatori ci mettono del suo esattamente come su queste figure poi ci mettono del suo i commentatori ci mettono del suo i cronisti posteriori e quanto di altro vogliamo ora non abbiamo avuto il tempo ma nell'approfondire il discorso di Farinata degli Uberti ci sarebbe stato da leggere non in questa serie è ben inteso ma è estremamente interessante leggere la figura di Farinata degli Uberti in parallelo come la presenta Dante e come la presenta invece Giovanni Villani è estremamente sintomatico il modo in cui differisce questa cosa poi dai dai in Dante a Lighieri c'è la figura di Farinata che cosa si dice si dice che chiaramente furono avversi i nostri i nostri antenati noi li abbiamo cacciati due volte sì ma poi sono ritornati invece i vostri non c'erano poi alla fine emerge comunque questa grandezza d'animo questa etica di Farinata degli Uberti e dice io da solo ho difeso Firenze quando la volevano distruggere insisto a dire questo non basta per poterlo assolvere perché è stato ben processato anche orché per farsa per eresia ma c'è tutta una superfetazione di storie su questo in come lo presenta poi lo presenterà poi il Villani e queste vicende sono tutte così cioè sono frutto molto probabilmente di una storia orale quando pure non siano in quale misura da decidere frutto dell'invenzione di Dante Alighieri in quanto tale sto ancora insistendo su Sapie tutte queste cose che si dicono sulla brigata così tanto quanto è abbastanza laconico poi Dante Alighieri e quanto poi invece sono pieni di informazioni quelli che sono venuti dove lui i commentatori Sicismondo Tizio e via e via e tutti e tutti gli altri dove chiaramente un nucleo di storia che è probabilmente un nucleo originale un urtext originale di frutto di racconto collettivo di memoria condivisa di narrazione narrazione non si sa quando inventato che poi diventa viene filtrato attraverso la letteratura e dalla letteratura viene filtrato attraverso il commento a quella letteratura fino a sorgere ad una ad una concretezza e a una sistematicità e a una coerenza che molto verosimilmente in origine non esiste io credo che siamo in presenza di una costruzione liquida di questo di questo genere prima di arrivare appunto alle solide certezze dei commentatori o di altri personaggi successivi questa spiegazione è molto molto convincente e anche ha aspetti di novità rispetto alla lettura che noi abbiamo fatto tradizionalmente della commedia perché se capisco bene devo sempre tenere presente che la finalità allegorizzante e il senso lato etico del poema porta Dante a forzare a tipizzare le figure per usare questo termine le persone in chiave appunto figurale cioè per che cosa avevano di fondo per per l'animo che effettivamente esprime una realtà ma visto dal tempo dell'eternità e dunque non schiacciato sulla narrazione storica ma proiettato in un tempo che va oltre la realtà insomma ecco per cui chi insiste sul realismo su delle figure secondo me non porta un po' fuori strada e abbiamo molta di strada un po' di questo tipo percorsa l'edizione di Duccio è stata esemplare come del resto di tanti suoi libri per ricondurci attraverso la comparazione delle fonti attraverso riferimenti alle alle vicende per come sappiamo e non imaginiamo che siano svolte per contribuire anche a una lettura di date che sia aderente alle finalità del poema che non erano quelle di raccontare che succedeva a Colle o altro ma erano quelle di vedere quei personaggi in una luce che era non del tempo degli uomini ringrazio molto Duccio e anzi voglio ma lo dirà dopo Enzo sottolineare che avremo un bellissimo incontro il 31 di questo mese presentando il suo ultimo libro stato da sedio voglio fare anche pubblicità grazie grazie è veramente anch'esso un esempio di come perché Duccio parte sempre se in tempo europeo sempre insomma parte da da una passione di conoscenza anche delle vicende di Siena ecco qui c'è il tema della sede non posso negarlo altre volte c'era il tema della strada nel libro quello su terre ignote stranagente Siena molto anche a vedere con il pellegrinaggio nel tema della francesia eccetera eccetera altre volte ancora la festa meglio non parlarne si sa benissimo a che cosa si allude però poi e questo è il punto che spesse volte non viene ovviamente ci vuole un'attrezzatura culturale con un grande respiro anche di conoscenze di come di fonti e così via proietta queste tematiche proietta collega direi più correttamente queste tematiche ad una visione generale più generale o comunque che le fa meglio capire che gli dà la dimensione che hanno e non le toglie un po' mitizzazione o dall'oralità fantasiosa ecco che le hanno accompagnate e questa la lettura che lui fa se noi leggiamo Dante e Siena del 21 vediamo che siamo in una situazione di lettura completamente giustamente diversa estremamente aderete ad una filologia che sia veramente in grado di restituirci sia la comprensione della scrittura sia la comprensione della realtà ma non facendo pasticcio fra i due piani grazie bene e a questo punto ci resta da lanciare diciamo così la prossima conferenza dare appuntamento al 9 di giugno questa volta di mercoledì e sarà la volta di Roberta Mucciarelli che ci parlerà proprio della Pia quindi cercheremo di saperne un po' un po' di più su questo personaggio abbastanza abbastanza sfuggente però ecco c'è anche un appuntamento intermedio questa volta come accennava prima Roberto perché lunedì 31 sempre da qui verrà presentato l'ultima fatica editoriale dei Duccio Balestracci stato d'assedio assedianti e assediati dal Medioevo all'età moderna e parteciperanno diciamo dico anche con un certo orgoglio insomma questa nostra iniziativa dei personaggi piuttosto importanti a partire appunto da Alessandro Barbero ci sarà poi Antonio Musarra dell'Università di Roma la Sapienza e Sabina Minardi che è capo servizio cultura dell'Espresso quindi diciamo avrà una giusta collocazione questo questo libro e fra l'altro ecco secondo me nel quel sottotitolo Duccio ha peccato un po' di modestia perché ci parla dal Medioevo all'età moderna ma i riferimenti che lui fa alle situazioni di assedio sono largamente diciamo sparse in un arco cronologico molto più vasto ci sono tanti assedi citati in età antica in età classica ma addirittura a partire da quello epico di Troia e poi si arriva a citare i giorni nostri insomma c'è Stalingrado c'è Sarajevo c'è l'assedio di Coban che è del 2015 così come geograficamente se il nucleo centrale è l'Europa e il bacino mediterraneo ma si arriva anche all'Estremo Oriente e a situazioni avvenute nel nuovo mondo quindi diciamo molto spesso insomma si legge un libro trovandoci meno di quello che ci si aspettava qui lo si legge e ci si trova di più di quello che invece era diciamo dichiarato quindi l'appuntamento a questo punto è sempre alle 17.30 ma lunedì 31 con la presentazione del libro di Duccio Palestracci grazie grazie